Il colmo per una piscina? A negare in un mare di debiti. Purtroppo però non è una barzelletta, ma la triste realtà di una vasca rimasta senza liquidi, prosciugata nel morale e nel materiale. Dopo l'onda anomala della chiusura improvvisa, dopo la doccia fredda del fallimento, domani a affonare i dipendenti e i clienti delle naidi, sarà pure il distacco delle utenze, che arriverà implacabile per porre fine ai sogni di gloria intesi come intervento straordinario evocati dai lavoratori all'indirizzo della Regione. Straordinario no, ma in regola sì, dice l'assessore Mauro Febbo, che oggi nell'assessorato di Via Passo Lanciano ha incontrato i dipendenti e i rappresentanti sindacali. Voi oggi cosa chiederete in particolare all'assessore Febbo? E lo chiedo a Guido Cupido della CGL Abruzzo. Sì, noi siamo qui in presidio e continueremo praticamente a fare presidio fino a quando non ci verranno date delle risposte. Chiaramente noi abbiamo le idee chiare, i lavoratori hanno delle idee chiare e abbiamo degli obiettivi assolutamente necessari da raggiungere. Il nostro obiettivo principale è riaprire quella struttura. C'era stato già un impegno, prima ancora del fallimento della Progetto Sport, a tenerla aperta perché da una parte consentiva agli utenti, quindi alla cittadinanza, di fruire di un servizio sociale, perché intanto questo è anche una piscina per una città come questa, e dall'altra offriva la possibilità di avere una continuità occupazionale ai lavoratori che ci lavorano dentro, che vorrei ricordare ammontano circa 70 persone, con le loro famiglie chiaramente. Noi quindi abbiamo la necessità di avere delle risposte, prima tra tutti, e quella di riaprire in tempi celerissimi l'impianto. Quindi oggi chiederemo ai rappresentanti della Regione di darci dei tempi, dei finiti, e quindi una tabella di marcia che renda disponibile quella struttura, con degli interventi straordinari di manutenzione che devono essere fatti, perché per troppo tempo quell'impianto è stato abbandonato a se stesso. Quindi c'è la necessità di garantire quegli interventi, il ripristino necessario, insomma, a farlo essere nuovamente operativo, da una parte, e dall'altra anche la sicurezza di quell'impianto, perché non dimentichiamo che viene frequentato da centinaia e migliaia di utenti giornalmente, a cui noi dobbiamo garantire la sicurezza. Il secondo che chiederemo, scontato e va da sé, è quella della continuità occupazionale. Nel momento in cui avremo avuto rassicurazioni di questo tipo, chiederemo e pretenderemo dalla Regione, quindi dai loro rappresentanti, che si facciano carico delle vicende di questi lavoratori. Non possono essere altri, devono essere questi i lavoratori a cui deve essere data una continuità occupazionale. Piero Perna, sempre un rappresentante sindacale e oltre che dipendente naturalmente della Progetto Sport, la domanda che vorrei porre è questa, quanti stipendi dovete prendere? Allora, noi siamo indietro e dobbiamo percepire gli stipendi di febbraio, marzo e aprile, che stiamo maturando adesso. Noi chiediamo alle istituzioni e alla politica tutta di fare uno sforzo superiore per poter riaprire questo impianto, perché noi non riusciamo a capire come il 26 ci sono le elezioni per il sindaco di Pescara, il 26 poi se ci sarà il ballottaggio vedremo, ma il 26 che sarà eletto il sindaco di Pescara, le naiali che sono il simbolo della storia e di tante generazioni che hanno vissuto in quella struttura, rimarrà chiusa. È una domanda alla quale noi con forza cerchiamo di trovare una soluzione. Ho visto che Antonella Cilli è dipendente delle naiali da un po' di anni e quindi ha vissuto tante cose, altre non le ha vissute perché è più giovane di me, però io, ne chiacchieravamo poco fa, ricordo perfettamente l'importanza di questa struttura, dove si andava ai tempi insomma miei, diciamo anche la sera o con i genitori per far scorazzare i bambini nel prato, per Pescara Jazz, per gli eventi sportivi, i tuffi, la palla a nuoto quando era ad ottimi livelli, insomma era una struttura vissuta della città, cioè non si andava solo a fare la vasca di nuoto e via. Cosa bisogna fare per farla tornare ad essere una struttura della città? Che si può fare? Innanzitutto riaprirla, perché ovviamente tutte le vicissitudini che stanno accadendo sono oramai a conoscenza di tutti, visto insomma i giornali e quant'altro, anzi ringrazio anche i miei colleghi della visibilità che ci state dando per questa nostra situazione. E l'Enaidi, sì, polo sportivo soprattutto conosciuto, grazie alla palla a nuoto, ma in passato anche come ha detto lei, per manifestazioni importanti, tuffi, gare di nuoto importanti, ultimi giochi del Mediterraneo, campionati italiani, addirittura nel 2009 è stato spostato a Pescara il famoso Sette Colli, che si fa di solito sempre a Roma. Già far tornare le famiglie, ridare una collocazione, ecco, un'idea familiare delle Enaidi, perché vengono le famiglie nel parco, noi l'estate facciamo anche il camp con i bambini, organizziamo anche eventi per i bambini, come abbiamo fatto spesso e molte volte. Ultimamente era tornato il famoso Sabato e Palla a Nuoto, con la Pescara Palla a Nuoto che è Militain A2. Noi ci auguriamo di riaprire innanzitutto l'impianto, perché come ha detto anche il responsabile qui del sindacato, vogliamo tornare a lavorare. Io lavoro in questa struttura da circa 15 anni, ahimè ho già vissuto uno sciopero nel 2006, con il professor Di Renzo si è ripartito tutto e adesso è finita anche questa concessione, ci troviamo insomma in questa situazione. Io lo so che è una domanda difficile, però che idea vi siete fatti? Perché con il lavoro e il guadagno non si riesce a fare una manutenzione seria, di cui evidentemente la piscina ha bisogno? Allora, come dicevamo anche prima quando parlavamo a telecamere spente, l'Enaidi comunque è un impianto molto vetusto, cioè sono credo 50 anni, l'anno scorso ha fatto delle 50-60 anni, quindi tutto ciò che c'è necessita sempre di molta manutenzione. Infatti adesso la chiusura è dovuta alla rottura definitiva dell'ultima caldaia supersite che resisteva. E per quanto per la domanda un po' diciamo così difficile circa andare avanti economicamente, che posso dire? Che non so, io non gestisco l'impianto, io sono un addetta all'Infopoint, forse se venissero fatti una gestione più oculata, più mirata, non dico che bisogna andare a dare più importanza a alcune cose invece di altre, però credo che con una gestione oculata si potrebbe andare tranquillamente avanti, anzi se c'è anche una manutenzione buona non bisognerebbe fare sempre degli interventi molto importanti. Perché voi avete la sensazione che più che appunto una manutenzione o comunque un refresh insomma di ciò di cui c'è bisogno siano state messe in realtà delle piccole toppe che reggono il tempo che reggono. Sì certo, noi abbiamo avuto due chiusure, una chiusura importante a fine ottobre, 12 giorni, in cui proprio si sono rotti due tubi importanti e sono stati cambiati metri e metri di tubi, i miei colleghi manutentori ve lo possono dire tranquillamente perché hanno fatto loro il lavoro giorno e notte, 12 giorni perché io stesso ho visto questi tubi sono proprio rovinati, marci e sono state messe delle piccole toppe, però come le dicevo possiamo mettere le toppe che vuole, però a un certo punto le toppe poi non reggono più, infatti credo che adesso nell'intervento che dovrà essere fatto per il ripristino delle caldaie ci sarà anche il lavoro che riguarderà un buon metri di tubi, perché bisognerà proprio cambiare metri e metri di tubi, perché se no è inutile rimettere una caldaia nuova che manda in pressione fortissimo l'acqua, ho imparato anche queste cose sentendo i miei colleghi, che poi vanno a rompere i tubi che oramai sono vecchi insomma. Sicuramente ci sarà qualcuno di diverso, anche perché noi tutti quanti sapranno di questo progetto finanziario presentato dai giocatori della squadra che ha portato la pallannoto pescarese ai vertici europei, che dobbiamo dire, spero che chiunque verrà, innanzitutto con tutte queste nuove tecnologie, userà dei metodi anche più ecologici per fare energia, speriamo bene, noi ci auguriamo questo, ecco. Io ritengo che chi vincerà, aprire una struttura da zero, non credo che ci siano grossi problemi per il rientrico di quei lavoratori, lavoreremo, parleremo con chi subentra per tutelarli, ci mancherebbe altro, per gli stipendi arretrati sono tutelati dalla stessa curatela che comunque ha dei fondi, come sapete lì l'istanza di fallimento è stata fatta perché ci sono delle somme che erano entrate e uscite e quelle somme sono state congelate e quindi sono a disposizione della curatela e quindi non ci sono problemi. Per il trattamento di fine rapporto i lavoratori possono scegliere se ricorrere all'Inps oppure farsi pagare dalla stessa curatela, lì abbiamo solamente, oggi abbiamo necessità di aprire le buste e di affidare con la curatela, siamo d'accordo di accelerare al massimo i tempi, ci stiamo lavorando veramente tutti insieme, il patrimonio mi ha assicurato, il settore patrimonio mi ha assicurato che ci sono sia le risorse sia i preventivi per intervenire e far ripartire, poi ci sono delle difficoltà oggettive, domani staccheranno la luce, quindi le pompe per il ricambio dell'acqua, ci sono dei problemi, ci stiamo lavorando, siamo stati nominati da meno di due mesi, una cosa che si trascina da anni, voi stesse mi avete chiesto, c'è un bando che non l'abbiamo fatto noi, la clausola di salvaguardia dei dipendenti non ci è stata messa, cosa hanno fatto i primi sindacati, cosa ha fatto prima l'amministrazione che ha fatto quel bando, noi abbiamo trovato le carte, già sul tavolo, cerchiamo di lavorare bene, risolvere i problemi, garantire tutti, garantire i lavoratori, garantire gli utenti, garantire lo stesso patrimonio della regione, perché quello è un patrimonio importante della regione Abruzzo. 18 mesi di affidamento temporaneo e poi questo grande progetto di finanza che farà, secondo noi, risorgere un impianto importante non solo per Pescara, ma per l'Abruzzo, ma per l'economia regionale, perché lo sport per noi e il turismo sono un binomio perfetto e le naite rappresentano un punto di riferimento sicuramente attenzionato da questo governo regionale. I lavoratori chiedevano un intervento straordinario per riaprire il più presto possibile, assolutamente non se ne parla finché non verrà poi aperta la busta. È una richiesta generica, straordinaria, che significa che domani staccano la luce. La curatela non può pagare perché il codice del commercio non prevede che la curatela possa eseguire i pagamenti. Stacca e quindi dovranno rifare i contratti dell'acqua. Quindi l'orientamento straordinario credo sia un'invenzione di qualcuno che parla giusto per dire qualcosa. I lavoratori devono sapere che noi siamo arrivati e stiamo risolvendo il problema. Devono avere un po' di giorni di pazienza, mi spiace se perderanno 20-30 giorni di lavoro, ma il loro posto di lavoro sarà salvaguardato, ma soprattutto avranno un futuro più rosso e avanti. I tempi per arrivare a definizione per le buste? Guarda, noi contiamo fine settimana prossima di aver risolto tutti i problemi. Se la devo ringraziare la curatela dello sforzo pure che sta facendo, se come dice rispetto ai tempi, quindi 3-4-5 giorni per sistemare gli attempimenti burocratici che deve fare una qualunque curatela, noi siamo pronti per partire, massimo, fine settimana prossima. Grazie.